Musica Telespettatori marchigiani buongiorno e buona domenica, benvenuti alla prima edizione quotidiana del nostro telegiornale, una vigilia di Natale tradizionalmente dedicata agli ultimi acquisti e a raggiungere i propri familiari del tutto confortato, tra l'altro da buone condizioni meteorologiche che secondo le previsioni dovrebbero protrarsi anche per gran parte della prossima settimana con temperature accettabili e superiori comunque alle medie stagionali. Andando invece alla cronaca è stata una giornata davvero difficile, quella di ieri per i vigili del fuoco a causa dell'incendio divampato nella zona di Santa Lucia ce ne siamo già occupati nell'edizione di ieri sera, una collina che sovrasta a San Benedetto del Tronto e che tra l'altro si trova a pochi passi dall'autostrada a 14. Soltanto in serata sono state domate le fiamme che hanno comunque distrutto una vasta porzione di vegetazione, enormi disagi al traffico anche per due auto che hanno preso fuoco. Il riassunto di questa complessa giornata nel nostro servizio. È stata una lunga ed impegnativa giornata per oltre una ventina di vigili del fuoco per domare il vasto incendio scoppiato ieri per cause in corso di accertamento nella zona di Santa Lucia sulle colline circostanti San Benedetto del Tronto. Le operazioni di spegnimento del rogo che si era anche propagato nell'area di contrada a Montaquilino si sono protratte per tutto il pomeriggio con rinforzi giunti dai comandi di macerata e di fermo. Nella zona aveva operato anche un elicottero proveniente dal nucleo di Pescara i cui lanci erano stati coordinati dal direttore delle operazioni di spegnimento, arrivato dal comando di Ancona. All'opera anche mezzi in movimento terra partiti dalla centrale Picena per tracciare sentieri tagliafuoco. Le fiamme sono state attaccate da più fronti con le difficoltà maggiori nei punti non raggiungibili da terra. Sono state abbattute alcune piante in fiamme che minacciavano di cadere sull'A14. Un cambio di direzione del vento ha poi provvidenzialmente agevolato il compito dei pompieri sul posto. Solo in serata la situazione è tornata alla normalità. In autostrada si sono vissute ore da incubo con due mezzi che hanno preso fuoco e code che hanno toccato addirittura i 10 chilometri in direzione Taranto. Una famiglia originaria del Ferrarese è rimasta intossicata ma in maniera rocambolesca è riuscita ad evitare ulteriori gravi conseguenze. Proseguiamo con la cronaca tragedia sfiorata a Venarotta. Ieri infatti un camion è arrivato per scaricare della merci in un negozio. Stava per sostare proprio davanti allo stesso quando per motivi non ancora chiariti un San Pietrino è partito come un razzo da terra sotto le ruote schiantandosi contro il vetro infrangibile della farmacia nei pressi. Una botta incredibile che si è sentita nitidamente per gran parte della zona. Soprattutto in fila davanti alla farmacia c'erano almeno 7-8 persone che per miracolo non sono state colpite dal sasso che è partito a tutta velocità. Qualche danno al negozio ma davvero gli esiti potevano essere ben peggiori. Ed i vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri alle 14 circa anche in località Orrido dei Cupi di Fiamma nel comune di Cagli. Più esattamente nella zona di Pianello per soccorrere una persona infortunata che si trovava in una zona impervia. Sul posto la squadra dei pompieri Cagliesi e l'elicottero Drago 124 del reparto Volo di Arezzo hanno raggiunto e trasportato l'uomo al campo sportivo di Pianello dove ad attenderlo c'era l'ambulanza del 118. Cambiamo argomento, nuova luce ad Osimo per la principale porta di accesso alla città ossia i tre archi in servizio di Luca Falcetta. Ad Osimo tornano a brillare con una nuova luce i tre archi, la principale porta di accesso alla città nel quartiere storico di San Marco. Dopo i lavori estivi di consolidamento della struttura che era stata ulteriormente danneggiata dalle pesanti piogge primaverili, il sindaco Simone Pugnaloni ha voluto ripagare i residenti e commercianti per le difficoltà di questi mesi con una suggestiva illuminazione e il concerto di Natale dei maestri Marco Santini e Rosa Sorice. Già da anni i tre archi erano ingabbiati da tubolari per motivi di sicurezza, l'intervento ha permesso quindi di restituire alla città uno dei suoi simboli come era un tempo. Nei prossimi mesi verranno tolte anche le due paratie in legno che proteggono la facciata. La DEA, la Società di Distribuzione di Energia Elettrica, ha installato anche i faretti multicolore per illuminare il monumento in giornate particolari. Questo concerto è dedicato a tutto il quartiere di San Marco che ha subito questo disagio durante l'estate, però abbiamo portato a casa un doppio risultato, un evento natalizio San Marco sotto le stelle alla presenza di Marco Santini e Rosa Sorice in onore di questo quartiere dove sono nato e cresciuto e abbiamo tolto i punteggi sopra i tre archi. Almeno da dieci anni i cittadini chiedono di togliere quei punteggi. E stasera inauguriamo anche la nuova luce dei tre archi. La sorpresa più grande sarà che ad ogni occasione speciale questa luce potrà cambiare con una app che verrà messa a disposizione dagli amministratori. E quindi oggi è una giornata dedicata interamente al quartiere di San Marco. Un uomo di origini nigeriane di circa 22 anni, già gravato da precedenti di polizia, è stato deferito poiché è trovato in possesso di circa 68 grammi di hashish. Nello specifico il giovane ad Ancona alla vista dei poliziotti ha lasciato cadere un involucro di cellofan di forma squadrata nel tentativo di non essere visto. Identificato e controllato, veniva trovato in possesso di ulteriore droga celata all'interno della tasca dei jeans. È stata una delle operazioni di controllo del territorio portata a termine dagli agenti della questura del capoluogo d'Orico. Un salotto all'ingresso della città. Il sindaco di Fano Seri ha presentato la riqualificazione di Piazzale Rosselli che rappresenta il primo tassello dell'intervento che si collega a Viale Battisti. Dopo un'esibizione musicale il primo cittadino ha ricordato Piazzale Rosselli vive di luce nuova e diventa così più accogliente. Abbiamo voluto fortemente questo intervento perché rappresenta una cerniera strategica che mette in connessione il centro storico con il mare. La qualità dei materiali qualificano questo intervento con la nuova pavimentazione e le luci radenti che rendono piacevole l'atmosfera sia per chi la attraversa e per le attività che si trovano qui. Ed entriamo ora davvero in clima natalizio con il messaggio di auguri dell'Arcivescovo di Loreto delegato pontificio per il Santuario della Santa Casa Fabio Dalcin. Sentiamo. Da questo luogo santo della Santa Casa di Loreto vi giungano i più fraterni auguri di un buon Natale e di un buon anno 2024. 800 anni fa, proprio nella notte di Natale, San Francesco realizzava per la prima volta quello che oggi noi conosciamo, il presepio. E il presepio ci aiuta proprio a cogliere il calore del Natale, il calore dell'umanità di Dio che si fa uomo. Dove c'è il Signore Gesù, dove si accoglie Dio, si può creare l'armonia, si può stare bene insieme, si può affrontare bene la vita insieme. Dove nasce Dio nasce la speranza e dove c'è la speranza nasce la pace. pace che porta a tutti quella possibilità di esprimere al meglio la propria umanità. Dove c'è pace c'è fraternità, c'è condivisione, c'è tenerezza, c'è comprensione, c'è desiderio di camminare e di costruire insieme qualcosa di bello per tutti. E allora guardando al bambino del presepio, guardando al bambino di Gesù che è lì con le braccia aperte, sentiamoci tutti coinvolti in questo impegno per la pace. Cominciando dalle nostre case, dalle nostre famiglie, tra famiglie, all'interno dei nostri paesi, delle relazioni che prendono ogni aspetto della nostra vita. pensiamo al bambino Gesù, ma pensiamo anche ai bambini che sono le vittime più fragili delle guerre, delle violenze, delle incomprensioni che ci sono tra i grandi. La grazia del Natale è proprio la grazia che Dio è con noi e se lo accogliamo è possibile per tutti fare un passo in più nella fede e un passo in più anche nella fraternità e nella condivisione. Buon Natale a tutti. Sono operativi da ieri due nuovi ascensori che collegano a fermo Piazzale Carducci con Piazzale Azzoline e viceversa. Dopo il 14 gennaio in programma l'ultimazione dei lavori con alcuni interventi di rifinitura esterna. Si tratta dell'impianto meccanizzato di risalita realizzato dopo che nei mesi scorsi è stato demolito il vecchio. Ascensori che consentono l'accesso al centro cittadino in modo più agevole in continuità con quanto realizzato in questi anni dall'amministrazione comunale con gli impianti meccanizzati che partono dal terminal e che ora in questo modo arrivano fino a Piazzale Azzolino. Molteplici realtà ad Ascoli Piceno per un Natale di condivisione e solidarietà insieme PAS, Fondazione Carisap Comune e Caritas. Sentiamo Mario Larocca. Presidente, si avvicina il Natale, il PAS è pronto per accogliere tutte le persone soprattutto per donare loro anche un po' di felicità in questo periodo del tutto particolare. Sì, come ogni anno abbiamo inteso d'accordo anche con l'amministrazione comunale con la Fondazione Carisap abbiamo inteso dare una carezza qualcosa che non risolve sicuramente i problemi grandi e crescenti a livello economico che ci sono adesso però una carezza. La carezza è un segno natalizio un panettone, una bottiglia e una carta prepagata della grande distribuzione di modo che ogni famiglia può utilizzarla come meglio crede senza imporre dei pacchi preconfezionati o cose di questo tipo. Ecco, abbiamo messo insieme dei dati abbiamo ovviamente eliminato le duplicazioni e siamo riusciti ad arrivare a 420 nuclei familiari. Oggi abbiamo presentato due iniziative importanti che stiamo portando avanti insieme a tutte le associazioni di volontariato che compongono il Polo Accoglienza e Solidarietà e la Caritas. Abbiamo parlato di Natale di tutti che è per tutti praticamente è un aiuto diciamo economico che è stato dato a 420 famiglie della nostra città un aiuto che consiste in una card per gli acquisti di beni alimentari più abbiamo distribuito anche un panettone ed uno spumante proprio per queste famiglie. Ulteriormente abbiamo messo sul pezzo anche l'organizzazione del Capodanno di tutti Capodanno di tutti che verrà fatto al Sacro Cuore nella città di Ascoli dove tutte quante le famiglie fragili le persone fragili della nostra città verranno chiamate per poter vivere in serenità questa giornata di festa ma Capodanno di tutti proprio perché è rivolto a tutte quante le persone quindi ogni anno vengono anche famiglie che non hanno problemi proprio per condividere questo momento di festa insieme a tutti gli altri e questo noi lo riputiamo proprio un atto di grande etica morale perché insomma quando si sta insieme non si hanno più barriere e si mette in atto quella inclusione che tante volte se ne parla troppo ma dopo nei fatti concreti non si porta avanti. Niente più colate di cemento a Sirolo a dirlo è Filippo Moschella il sindaco della nota località balneare nel cuore del Parco del Conero lo fa annunciando la variante ecosostenibile al piano regolatore generale della cittadina con la quale si elimina l'incremento del 7% pari ad oltre 42 mila metri cubi concesso dalla regione Marche Provincia e dalle norme tecniche di attuazione del piano del Parco del Conero nel 2010 spiega Moschella aggiungendo che questa volumetria sarà restituita al parco e non sarà mai più utilizzabile da nessuno ed ora la pagina ampia dedicata allo sport Per molte nostre squadre sarà un santo Stefano di impegni agonistici partendo dal calcio infatti Lascoli dopo la sconfitta subita ieri a Pisa si è ritrovato stamattina al Picchio Village per la ripresa degli allenamenti in vista della gara contro il Cittadella del 26 dicembre alle 15 che chiuderà il girone di andata di Serie B mancheranno lo squalificato giovane che all'arena Garibaglia ha rimediato la quinta munizione stagionale ed i vari infortunati tra cui Caligare e Falzerano difficile che Castori possa riavere a disposizione Nestorowski mentre almeno rientreranno Bellusci e Di Tacchio nella frattempo classifica tornata ad essere allarmante con i bianconeri penultimi in coabitazione con lo Spezia dietro solo la Feralpi Salò reduce comunque da due vittorie consecutive in Serie C una fermana orgogliosa è riuscita in extremis a strappare il pareggio ieri sera a Pescara con una rete di grassi al 94esimo mentre nel pomeriggio 1-1 anche della Vispesaro sul campo della Juve Next Gen male invece la Recanatese che offre una prestazione deludente e viene meritatamente battuta al Tubaldi dalla Virtus Sentella vediamo il servizio Sera taccia per la Recanatese svagata per alcuni aspetti in difesa poco reattiva centrocampo e scarsamenti incisivi in attacco la Virtus Sentella passa quindi al Tubaldi senza grandissimi sforzi amministrando il gol di Parodi dopo un quarto d'ora e correndo il minimo sindacale dei rischi ci voleva insomma un'altra prestazione contro i Liguri anche se le attenuanti non mancano organico ridotto all'osso con le recenti defezioni ed un avversario determinatissimo a riscattare il capo con la Juve Next Gen tuttavia il fatturato delle occasioni create dai giallorossi è stato modestissime proprio per questo il verdetto finale può essere considerato legittimo nonostante la reazione nella ripresa primo tempo invece di sofferenza dei leopardiani che non riescono ad esprimere il proprio gioco Lentella non fa molto ma passa in vantaggio appena superato il quarto d'ora su schema di corner palla col contagiri messi in area da Peterman e sceglie bene il tempo capitano Parodi non proprio un gigante che insacca da pochi passi non c'è sostanzialmente reazione dopo un buon cross messo al centro da sbaffo con Carpen anticipato da De Lucia serve il tempismo di Meli per neutralizzare Tomaselli lanciati in velocità con una ripartenza micidiale Digori in controllo ancora Tomaselli a scorazzare sulla destra sfera per Lipani che si gira benissimo ma da ottima posizione non inquadra lo specchio la lunga sequenza dei corner genera sempre problemi a padrone di case dal quarantesimo e Di Mario ad essere provvidenzialmente contenuto in angolo da una deviazione l'unico vero squillo della Re Canatese arriva nell'azione successiva dove sbaffa e magistrale a smarcare Carpani il cui diagonale viene comunque bloccato da un portiere esperto come Di Lucia Pagliari prova a mischiare le carte per cambiare l'inerzia ma la chance vera è per il raddoppio ospita ancora con lo sgusciante Tomaselli che va via che è un piacere con Meli che in modo superbo riesce a tenere in piedi la baracca Guizzo di Lipari pochi istanti dopo con Peterman bravissima a deviare in angolo almeno adesso il piglio è quello giusto anche se è durissimo a trovare spazi con una retroguardia che fa quadrato a Torramanzi Bonini e Parodi ci si prova palla a terra ci si prova con lanci lunghi ma l'opportunità c'era Melchiori grazie ad un ruzzolone di un difensore ma viene gettata alle ortiche ci abbattando fuori la conclusione le speranze tramontano su un siluro di Longobardi che termina sul fondo ora la sosta davvero quanto mai opportuna con una classifica ancora confortante ma con prospettive non del tutto rassicuranti e ricordiamo stasera alle 21 l'appuntamento con le marche nel pallone ospite nei nostri studi il presidente della Federcalcio Marche Ivo Panichi subito dopo la differita della finale di Coppa Italia di eccellenza tra Osimane e Maceratese di giovedì scorso passiamo al basket Capo Amaro per la Carpegna Prosciutto che in vantaggio di 15 punti al 24esimo sembrava avere la partita in pugno contro Varese non aveva però fatto i conti con uno strepitoso Menion che ha guidato la riscossa dei suoi che alla fine si impongono 88-81 e non è mancata qualche contestazione anche aspra della tifoseria ricordiamo domani alle 21.30 la telecronica della gara intanto andiamo a sentire Coach Buscaglia al microfono di Michele Zavagnini una partita che sembrava incannalata nei giusti binari più 15 poi cos'è successo un calo anche abbastanza vistoso sì avevamo preso un bel vantaggio tra l'altro anche esattamente portando loro nelle situazioni difensive che volevamo ma dopodiché si è spenta proprio la luce su questo nel senso che al di là di trovare loro un protagonista alla fine noi non siamo riusciti più difensivamente a farlo quel lavoro quando dovevamo sapevamo bene cosa dovevamo fare l'avevamo fatto anche in parte non ci siamo riusciti abbiamo fatto qualche cambiamento non ci siamo riusciti e dall'altra parte e tra l'altro anche non fermando il gioco con i falli nel momento in cui abbiamo preso il break da tre punti dall'altra parte ci siamo intestarditi a stare come ti dicevo prima nella corsia centrale con queste giocate soltanto di blocco sulla palla dove abbiamo fatto fatica eravamo anche preparati a cosa loro facevano lì l'abbiamo anche fatto rifatto rifatto però poi negli ultimi 15 minuti mai praticamente o comunque non siamo riusciti lì abbiamo fatto proprio fatica e la stessa fatica l'abbiamo fatta anche nel quando la partita si è messa a punto a punto perché non siamo andati proprio bene negli obiettivi che siamo un po' tutti quanti abbiamo fatto fatica ci hanno rincorsi un po' ecco al di là dell'aspetto strettamente tecnico un po' come a Pistoi è sembrato una squadra un po' sulle gambe nella parte finale che ha subito forse troppo agli avversari anche fisicamente quello no nel senso che penso che potesse probabilmente con un po' più di attenzione difensiva con un po' più di calma anche se ci stavano rimontando riuscire a giocare in quelli che erano gli obiettivi preparati ci avrebbe dato anche un pochino più di energia in testa lì probabilmente siamo calati anche per quello e ripeto abbiamo proprio anche interpretato male su tutti e due i lati del campo sai magari non segni ma tieni la difesa o tieni la difesa o non difendi ma segni noi abbiamo avuto un momento di tempesta in cui su tutti e due i lati abbiamo proprio eseguito male senti Mannion hai provato tante cose ma sembrava veramente in quelle giornate sì ma al di là del talento delle giornate però siamo stati anche noi sapevamo lì a quel punto abbiamo fatto una scelta precisa dovevamo eseguirla meglio e nel momento in cui lui è entrato un pochino più in tutte e due le situazioni sia laterale che centrale un po' nel canestro insomma dovevamo lavorare molto meglio col corpo dovevamo lavorare meglio nell'esecuzione del tipo di difesa che avevamo insomma siamo un po' mancati ecco e la VL chiuderà il 30 dicembre a Bologna il suo 2023 non certamente il campo più agevole per cercare riscatto pronostico impossibile per la Megabox nella 1 femminile di pallavolo ed infatti le Biancoverdi sono uscite sconfitte con il massimo scarto a Milano dall'Allianz un po' di storia nel primo set chiuso da Egonu e compagni a venti poi oggettivamente non c'è stata partita anche per le ragazze di pistola prossimo appuntamento il 26 dicembre a Roma e c'è amarezza anche per i quarti di finale di Coppa Italia sfumati sul filo di lana per la contemporanea vittoria del Bisonte Firenze a Cuneo con le Toscane che prevalgono in classifica grazie al maggior numero di vittorie in a due la Balduccia vinto in rimonta al quinto set all'Ecco ed è tutto per questa prima edizione domenicana del nostro telegiornale grazie per averci scelto telegiornale che ritorna questa sera alle 18.50 vi lascio alle previsioni meteo e vi auguro un buon pomeriggio Asset quando il cittadino è al centro Amici di Trevi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica vigilia di Natale ancora all'insegna del bel tempo la pressione atmosferica resta relativamente alta sull'Italia le perturbazioni atlantiche si muovono alle medie e alte latitudini se controlliamo infatti la nuvolosità prevista sul nostro paese non troviamo un granché solo sul versante tirrenico correnti umide provenienti dal mare riportano qualche anovolamento ma senza grandi conseguenze controlliamo infatti le precipitazioni attese sull'Italia poco da segnalare guardate magari a fine giornata qualche goccina tra l'acce e l'alta campagna ma fenomeni davvero isolati quindi in definitiva vigilia di Natale con qualche nuvola diciamo sul tirrenico quello sì per il resto cielo sereno poco nuvoloso e temperature ancora di gran lunga sopra le medie del periodo al centro sud tocchiamo e superiamo i 15 gradi al nord a massime tra 12 e 15 per sapere poi nel dettaglio come andrà a Natale e pure le giornate successive consultate l'app gratuita di Trebi Meteo a Natale a Natale a Natale a Natale Grazie a tutti.